pace e bene cari fratelli e sorelle bentrovati il vangelo di questa domenica è un balsamo per il cuore e ci indica la via per un vero ristoro interiore che il signore vuole donarci tre passaggi importanti per poterlo sperimentare nella nostra vita che cogliamo dalle parole di gesù sono venite a me imparate da me esseri piccoli secondo gli studiosi il nostro brano è suddivisibile in tre strofe nella terza strofa troviamo tra le altre due espressioni pregnanti di gesù anzitutto venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò ristoro il ristoro interiore dunque la pace del cuore la shalom ebraica la pienezza interiore è qualcosa che soltanto il signore può donarci per questo ci invita tutti a sé specialmente voi affaticati e oppressi sentiamo questo invito rivolto personalmente a ciascuno di noi viene a me tu che sei affaticato tu che sei stanco che avverti il peso della quotidianità che affronti una sofferenza che ti sta logorando fisicamente o mentalmente viene a me tu che sei stanco di vivere come se tutto fosse solo sulle tue spalle di vivere nella pretesa di tener tutto sotto controllo come tentativo di risolvere la tua precarietà andando però di ansia in ansia di frustrazione in frustrazione viene a me tu che sei stanco del tuo ministero in questo momento particolare nella tua vocazione ecco c'è un riposo che il signore ci vuol donare che solo in lui possiamo trovare e viene a me tu che sei oppresso dal peccato oppresso da quelle schiavitù interiori dalle quali ti rendi conto che da solo non riesce ad uscire viene a me tu che sei oppresso da un modo di vivere la tua fede incompleto un po' come era al tempo di gesù per il popolo di israele asfissiato da un legalismo da una superficialità con la quale a volte era stata interpretata la legge di dio ecco c'è un riposo che il signore vuole donarci e che può sperimentare chi si riconosce affaticato e oppresso dunque chi ammette la propria fragilità e va al signore ed ecco che allora stanchezza oppressione anche il proprio fallimento possono diventare una strada di crescita un luogo di incontro con dio e purificazione del proprio cuore l'importante è non piegarsi orgogliosamente su di sé ma aprirsi alla grazia facendo nostre le parole del salmista signore sono stanco di soffrire dammi vita secondo la tua parola e poi gesù continua ed ecco la nostra seconda frase dicendo prendete il mio gioco sopra di voi e imparate da me che sono mite umile di cuore così troverete ristoro per la vostra vita ecco un secondo passo prendere il gioco di gesù il gioco era un attrezzo usato in agricoltura portato da due buoi contemporaneamente per arare il terreno dunque il gioco è qualcosa che si porta insieme da qui la parola coniuge e nell'antico testamento era simbolo della legge di dio dunque gesù ci sta dicendo camminate con me e come me e imparate da me che sono mite umile di cuore così troverete ristoro trova ristoro chi cammina con il signore e si decide ad imparare da lui l'arte di vivere e di amare non sperimenta questo riposo chi pretende di farcela da solo chi continua a vivere secondo uno stile di vita arrogante prepotente non umile non ammettendo le proprie difficoltà pretendendo di essere più o meglio degli altri viceversa trova pace chi vuole imparare da gesù uno stile di vita mite e umile come nostro signore che come ci dirà la prima lettura è venuto mite su un puledro figlio d'asina venuto per far grandi noi per mezzo della sua povertà e infine miei cari il terzo passo per sperimentare questo ristoro dell'anima questa pace del cuore è l'essere piccoli tutto ciò che abbiamo visto è nella terza strofa e viene dopo le prime due strofe dove abbiamo appunto tra gli altri il tema della piccolezza gesù dice ti rendo lode padre signore del cielo e della terra perché hai tenuto nascosto queste cose ai dotti e sapienti e le hai rivelate ai piccoli ecco gesù lode il padre perché nasconde queste cose dunque la rivelazione di sé nel suo figlio gesù dei suoi misteri della sua vita divina ai lotti e sapienti a coloro che presumono di sapere già ai saccenti agli autosufficienti a coloro che non hanno spazio appunto per la rivelazione di dio in gesù un simpatico episodio narra di un rabbino che fece una domanda ai suoi discepoli dove abita dio e tutti rispondevano cose diverse in cielo in terra in ogni luogo ma ad ogni risposta il rabbino diceva no allora ad un certo punto i discepoli gli chiesero ma allora dove abita la risposta fu dio abita dove lo si lascia entrare ecco miei cari dio si rivela ai piccoli a coloro nei quali trova spazio per conoscere il signore per entrare in una intimità crescente con lui la strada è quella della piccolezza se siamo pieni di noi stessi se pensiamo di farcela da soli non c'è spazio per dio quando san francesco d'assisi ad esempio disobbedendo se stesso e obbedendo al vangelo si avvicinò all'ebroso e lo baciò nelle fonti francescane leggiamo che da quel giorno per la prima volta smise di adorare se stesso ecco miei cari smetterla di adorare noi stessi e farci piccoli dobbiamo fare attenzione perché in ciascuno di noi abita il dotto e il piccolo latente nel cuore abbiamo sempre quella pretesa di autosufficienza di farcela con le nostre sole forze che basti capire qualcosa di più per essere a posto mi cari la vita spirituale non avanza di successo in successo segno che si sta crescendo nella fede non è che man mano ci si sente più sicuri e quasi ci si affranca dal signore più si cresce più ci si scopre bisognosi di lui noi stiamo in un combattimento per diventare sempre più semplici più piccoli più disponibili alla grazia e allora chi sono i piccoli ci aiuta a capirlo bene il salmo 131 signore non si inorgoglisce il mio cuore e non si leva con superbia il mio sguardo non vado in cerca di cose grandi superiori alle mie forze io sono tranquillo e sereno come bimbo svezzato in braccio sua madre come bimbo svezzato è l'anima mia ecco i piccoli di cui parla gesù coloro che fiduciosamente accolgono il signore le sue parole e si abbandonano a lui vedete miei cari qui non c'è un invito al disimpegno ognuno di noi è chiamato a compiere il suo a dire i suoi sì quotidiani a compiere i suoi atti d'amore a dire i suoi no al peccato ma c'è qualcosa di più profondo quell'abbandono confidente nel quale sta la vostra forza dice la scrittura ad esempio quante volte tendiamo a scoraggiarci per i nostri limiti e le nostre fragilità il piccolo sa accoglierle e mettersi nelle mani del signore sapendosi amato quante volte ce la prendiamo con noi stessi per l'ennesima caduta in un peccato il piccolo sa chiederne perdono e si ridecide a ripartire quante volte pensiamo di non farcela perché la situazione che affrontiamo è troppo grande il piccolo confida nel suo signore certo che lui gli darà la forza e come diceva santa teresina se a volte le cose sembrano troppo grandi cerca di passargli sotto cioè di non dargli troppo peso di non star lì a rimuginarci sopra e ancora quante volte ci scoraggiamo pensando che il signore ci guardi come la somma dei nostri difetti il piccolo sa che il buon dio lo guarda con tenerezza come un papà o una mamma guardano il loro figlioletto piccolo santa teresina addirittura diceva dovrei scoraggiarmi perché a volte mi capita ancora di addormentarmi durante l'adorazione eucaristica o di faticare a portare a termine alcune preghiere il piccolo continua a farle sapendo che il buon dio accoglie ogni cosa addirittura lei diceva come una mamma vede addormentarsi il suo bimbo tra le braccia o come un medico addormenta il paziente io so che il signore mi accoglie vedete lo spirito di piccolezza di quell'abbandono fiducioso amorevole nelle mani del signore che poi si incarna in quei piccoli grandi sì quotidiani alla sua santa volontà e allora miei cari in conclusione facciamo nostre le bellissime parole di santa teresa di lisie che ci consegna il suo itinerario la piccola via ho sempre desiderato essere santa ma ahimè ho sempre accertato quando mi sono paragonata ai santi che tra essi e me c'è la stessa differenza che c'è tra una montagna la cui vetta si perde nei cieli e il granello di sabbia oscura calpestata sotto i piedi dei passanti invece di scoraggiarmi mi sono detta il buon dio non può ispirare desideri inattuabili perciò posso nonostante la mia piccolezza aspirare alla santità diventare più grande mi è impossibile debbo sopportarmi tale quale sono con tutte le mie imperfezioni non di meno voglio cercare il mezzo di andare in cielo per una via ben dritta molto breve una piccola via tutta nuova allora ho cercato nei libri santi e ho letto queste parole pronunciate dalla sapienza eterna se qualcuno è piccolissimo venga a me e per sapere o mio dio quello che voi fareste al piccolissimo che rispondesse al vostro appello ho continuato le mie ricerche ed ecco ciò che ho trovato come una madre carezza il suo bimbo così vi consolerò vi porterò sul mio cuore e vi terrò sulle mie ginocchia mai parole più tenere più armoniose hanno lietato l'anima mia l'ascensore che deve innalzarmi fino al cielo sono le vostre braccia gesù per questo non ho bisogno di crescere al contrario bisogna che resti piccola che lo divenga sempre più che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti